Al via la seconda edizione di Porte Aperte all'Università dell'Aquila che si svolgerà giovedì 12 luglio presso il Polo Universitario di Coppito nell'edificio Alan Turing. L'evento si propone come giornata di orientamento che ha lo scopo di affiancare gli studenti appena diplomati o che stanno per conseguire il diploma nel momento della scelta consapevole e ponderata del proprio percorso universitario. Sarà un'occasione per conoscere e approfondire l'offerta formativa ai servizi erogati dall'Ateneo, ma al tempo stesso un momento di incontro con le famiglie dei futuri studenti universitari. Numerose le attività in programma a partire dalla mattina alle 10 e fino alle 14 in diverse aule dell'edificio Alan Turing. È prevista la presentazione da parte dei docenti dei corsi di studio, degli sbocchi professionali e di piccoli seminari tematici relativi ad argomenti oggetto di studio nei vari percorsi accademici.